Nella provincia di Lucca mancano almeno 20 insegnanti perché si è rispettato il rapporto di uno ogni due alunni certificati. Il grido di allarme arriva dal coordinamento Scuola Pubblica Bene Comune, che con i Cobas ha organizzato questa mattina un convegno dal titolo Il Sostegno Negato. Nell'occasione è intervenuto l'avvocato tavernese di Roma, che si è detto disponibile a supportare le famiglie lucchesi qualora decidessero per il ricorso al TAR. Soltanto quest'anno, infatti, nella nostra provincia, i ricorsi dei genitori, dei bambini certificati che richiedono maggiore assistenza sono arrivati a 12 e tutti sono stati vinti. Una situazione difficile quella dei tagli alla scuola, che come spiega Sebastiano Ortu, incide pesantemente sulla formazione dell'alunno. Quest'anno la lotteria delle convocazioni di settembre mi ha impedito di fare il mio lavoro di insegnante di sostegno e quindi sono sulla cattedra. Poco male, perché sono un insegnante e mi piace lavorare in tutte le situazioni in cui mi capita di lavorare. Fatto sta che il ragazzo che seguivo l'anno scorso, dopo un periodo di conoscenza, perché ho cominciato a lavorarci con lui da settembre, durato all'incirca 4-5 mesi, abbiamo cominciato a lavorare in maniera proficua, siamo arrivati alla fine dell'anno e io ho cambiato semplicemente destinazione, perché il mio contratto è finito a giugno, come tutti gli insegnanti, gran parte degli insegnanti precari. Durante il convegno una particolare attenzione è poi quella che è stata rivolta alle modalità di rilasso delle certificazioni, che secondo il coordinamento scuola pubblica bene comune dovrebbero essere più dettagliate. La situazione di questo anno scolastico è che non si raggiunge a Lucca come nelle altre province della Toscana, neppure il rapporto minimo previsto dalla legge di un insegnante ogni due alunni certificati diversabili. Noi su questo vogliamo chiedere al più presto un incontro al prefetto con la ASD, l'ufficio scolastico provinciale, perché si chiarisca che cosa si sta preparando rispetto all'anno prossimo.